Starter Dovrebbe essere tutto pronto A questo punto Glasser subito veloce All'interno King Messenger Friday Party Punta Arena sbacchettone Marex Noismaker in coda Red Spirit Glasser va davanti Su Friday Party Che procede All'argo Noismaker All'interno c'è King Messenger Che va in posizione Avendo di fuori Punta Arenas Bacchettone TripX, Raimondi, Marex in coda Tira anche un po' Red Spirit Nella prima parte di gara Anche perché Glasser Ha ripreso in mare Quindi ha ammucchiato dietro un po' tutti Tra questi Friday Party E non c'è grande andatura Nella prima parte di gara Non c'è molta andatura Glasser va davanti Su Friday Party Che si mette lì Poi in corda c'è King Messenger Di fuori Noismaker Poi Raimondi Bacchettone Punta Arenas TripX In coda Red Spirit Glasser è in vantaggio Sempre su Noismaker Che galoppa all'esterno Di Friday Party King Messenger Raimondi Marex Bacchettone TripX Punta Arenas Red Spirit Con Noismaker Che preme su Glasser Dietro a due Friday Party King Messenger Poi Raimondi Bacchettone TripX Con Glasser Che prova a ripartire Sul Noismaker Friday Party King Messenger Bacchettone Glasser Noismaker Poi Friday Party Poi Bacchettone King Messenger Raimondi TripX Allargo di tutti Red Spirit Scappa Glasser Dal Noismaker Friday Party Bacchettone King Messenger Raimondi Poi TripX Poi Punta Arenas Che sbuca al centro del cuneo Glasser Friday Party Bacchettone Punta Arenas TripX Raimondi Con TripX Allargo di tutti Che sta scattando Su Friday Party Poi Bacchettone Poi Raimondi Lottano tre o quattro Con TripX All'attacco di Friday Party TripX Che attacca Friday Party Three Picks Friday Party Per Francesco Cantoni TripX Copre e batte Friday Party 4-6 Bella interpretazione Di Cristiano di Cristiano Di Stasio 4-6 Per la terza Raimondi 4-6 2 Favoriti Out Miggoli Pesi alti 4-6 2 TripX Friday Party Raimondi E quarto Bacchettone 4-6 2 11 È l'ordine d'arrivo Di questo premio Hippo Web TripX 9 e 41 È tutto Aveva chiuso Il 2015 Con la vittoria Nell'ultima corsa A San Rossore Ci eravamo dati Appunti